nuovo vescovo a fano arriva don andrea andreozzi la protesta non cambia il destino il biolaboratorio si farà i 230 anni della biblioteca liveriana sul san bartolo il festival ambientale we nature cultura ed enogastronomia ecco calici di parole buona serata a tutti voi pubblico di rossini tv ben ritrovati al nostro consueto spazio informativo della sera rossini news telegiornale di mercoledì 3 maggio che apriamo con una novità per quelle che riguarda gli ordinamenti religiosi del nostro territorio oggi è stato infatti nominato don andrea andreozzi come nuovo vescovo della diocesi di fano fossombrone cagli pergola a darne l'annuncio è stato il vescovo armando trasarti che dopo 16 anni di ministero a fano questa mattina in cattedrale ha dato il suo saluto di congedo dall'incarico alla presenza di presbiteri diaconi religiosi e fedeli trasarti lo ricordiamo è dimissionario per sopraggiunti limiti di età da oggi fino all'ingresso del nuovo vescovo monsignor trasarti sarà amministratore apostolico a fano adunando dall'insediamento di monsignor salvuccia pesaro arriva dunque un altro vescovo fermano nella provincia di pesaro urbino la manifestazione di protesta sul bio laboratorio che ha visto a pesaro la presenza di 6.000 attivisti nella giornata del primo maggio non cambia però il destino di quell'area della torraccia il comune di pesaro ha infatti ribadito la sicurezza tecnico scientifica della struttura argomentata ai pesaresi in più approfondimenti informativi comune che dunque venderà il terreno all'istituto zoo profilattico subito dopo aver acquisito il parere del tar che ha al suo esame il ricorso delle associazioni che sostengono la battaglia dei comitati contro il bio laboratorio i carabinieri di fossombrone hanno rintracciato e sottoposto agli arresti domiciliare un 26enne di origine campana destinatario di un ordine di esecuzione di due anni e due mesi per i reati di lesioni gravissime minacce porto d'armi in luogo pubblico reati commessi a fano nel 2018 e anche per tentata estorsione lesioni eccessione lecita di stupefacenti commesse ai danni di un 17enne a cartoceto nel 2017 al fine di estorcio di denaro relativo a pregresse cessioni di droga ed ora cambiamo argomento e parliamo di promozione turistica del nostro territorio si chiama discover pesaro il primo consorzio della provincia che metterà assieme l'azione di otto tour operator il turismo ha bisogno di canali di organizzazione ha bisogno soprattutto di sinergia e quindi quando più soggetti più tour operator in questo caso si mettono assieme per l'obiettivo comune il risultato non può essere che migliore detto questo il valore aggiunto è anche la copertura provinciale territoriale di questo raggruppamento perché naturalmente diciamo come abbiamo puntato sul tema della capitale italiana 2024 distribuita in tutto il territorio provinciale altrettanto sarà importante che rispondano le strutture ricettive e anche ovviamente i canali di canali di incoming per ospitare indirizzare il pubblico e soprattutto per meglio lavorare una distribuzione nei 12 mesi che poi il vero obiettivo al dirà del sold out già nei fatti estivo ma già del 23 insomma nasce da tempi piuttosto lontani ci siamo da prima del del covid perché ci siamo uniti a livello regionale con un'associazione che si chiama inside mark alive e abbiamo cominciato a fare gruppo già da allora abbiamo poi studiato qui a livello locale perché siamo la maggioranza degli operatori la stragrande forse i più rilevanti sicuramente sul territorio deciso di approfittare del volano importantissimo che è quello che è pesaro capitale della cultura 2024 per poi proporre a livello a livello diciamo a livello globale sia nazionale che internazionale perché noi siamo presenti un po su tutti i mercati pesaro e il territorio di pesaro pesaro il nostro territorio che è una cosa fondamentale noi diamo copertura 360 gradi perché noi facciamo promozione e commercializzazione noi abbiamo abbiamo creato abbiamo messo i nostri soldi noi siamo otto soci siamo tutti insieme siamo siamo molto uniti abbiamo deciso di mettere soldi non saremo noi personalmente come come aziende ma sarà discover pesaro che lavorerà per essere a disposizione del territorio per vendere il territorio nel giusto modo questo punto di vista è importante perché ci permette fare un lavoro mirato qua ma ci permette fare un lavoro anche più largo nella promozione all'estero nell'ambiente che abbiamo già individuato dei paesi europei ed extraeuropei che abbiamo individuato appunto come priorità e quindi insomma un partner in più che raggruppa altri soggetti per noi è importante noi siamo contenti e grati di questa operazione noi ci crediamo molto abbiamo bisogno che il comune le istituzioni ci stiano vicino che approfittino così come loro hanno lanciato pesaro 2024 adesso noi siamo lo strumento l'arma giusta per promuovere il territorio e ieri biblioteca e musei oliveriani di pesaro hanno compiuto 230 anni una festa di compleanno l'insegna di rievocazioni e attenzione ai più giovani che rossini tv ha seguito e che vi proporrà in uno speciale d'approfondimento che andrà in onda venerdì 5 maggio alle 20 e 10 ma del quale vi forniamo già qualche anticipazione oggi per noi è un grande giorno perché proprio ricordiamo in questa occasione quello che successe tanti anni fa cioè nel 1793 il 2 maggio quando per la prima volta la biblioteca e i musei oliveriani furono aperti al pubblico e per questo dobbiamo ringraziare annibale oliveri che è il nostro fondatore che con il suo testamento ha deciso di lasciare tutte le sue proprietà libri documenti reperti archeologici monete medaglie eccetera eccetera alla punto la città di pesaro alla comunità di pesaro e soprattutto a beneficio dei dei più giovani lo dice proprio espressamente nel suo testamento affinché tutti fossero diventassero più culti e toperosi e quindi proprio per cercare di dare un suo contributo a rendere i cittadini sempre più sempre più bravi più più lavoratori e più istruiti e quindi anche una città più felice oggi abbiamo avuto il piacere e l'onore di festeggiare i 230 anni di questa signora meravigliosa l'oliveriana che se li porta benissimo peraltro e che il cuore davvero pulsante cuore culturale e non solo della nostra città e l'abbiamo fatto attraverso le nostre speranze il nostro orgoglio che sono i più piccoli lettori dell'associazione perché noi abbiamo due motti uno non è mai troppo tardi e l'altro non è mai troppo presto quindi pensiamo che la lettura il libro in particolare sia davvero un ottimo antidoto a tante cose alla solitudine alla noia alla povertà perché appunto il libro è un compagno che apporta una ricchezza spirituale da sempre fin da quando siamo piccolini e oggi per questo compleanno abbiamo pensato a chi porterà avanti la cultura poi dopo di noi e quindi i bambini cioè dietro in questo momento sono all'annunziata dietro di me c'è un'orchestra di ragazzini di bambini fantastici sempre questi ragazzi che porteranno avanti questa cultura e penso che sia proprio la la chiave di lettura per questo bellissimo compleanno di 230 anni di Olivieri 230 anni che possono sembrare tanti sono tanti per la storia per quello che la biblioteca e i musei insomma l'inter rappresentano per la città di Pesaro prestigianza ma in realtà per il panorama culturale nazionale e internazionale ma anche una grande freschezza nel modo di viverli non solo di festeggiarli ma anche di aumentare di giorno in giorno che è la rete dei rapporti e delle collaborazioni e dei canali di pubblico che collaborano in varia misura con la biblioteca compreso oggi in questo compleanno in cui dalla rievocazione storica a partire dai picceni fino alle letture delle piccole voci fino alla musica del progetto artistico culturale inclusivo di libera musica sono protagonisti di elementi di racconto che come aprendo ogni libro insomma generano ulteriori spunti di racconto e di riflessione e di allargamento verso la comunità che poi è un po' il dettato originario dell'Olivieri nell'andare a istituire questo patrimonio quindi siamo felici di questo momento siamo felici dell'attività della biblioteca anche di come si collega con il museo recentemente riaperto sono un grande patrimonio ripeto non solo librario non solo artistico di disegni di opere di carte geografiche di mappamondi di reperti archeologici di opere d'arte ma un grande patrimonio anche di rapporti umani che sono poi diciamo alla base della trasmissione culturale telecamere di Rossini TV che invece questo weekend saranno a Fiorenzuola di Effocara per la seconda edizione del format ambientale WeNature che è stato presentato oggi e che vi mostriamo in questo servizio torna a Pesaro all'interno del parco San Bartolo la seconda edizione di WeNature uno dei format di successo dedicati all'ambiente che vede al primo posto temi come il turismo outdoor e la scoperta consapevole della natura l'evento si svolge tutto nel borgo di Fiorenzuola in diversi spazi i talk un po' più importanti sono al campanile di Sant'Andrea nella parte alta dove installeremo un palco panoramico molto bello poi ci saranno incontri e laboratori all'interno della sede del parco nella parte bassa e poi in piazza Dante avremo tutta la parte espositiva e l'info point dal quale partiranno laboratori, escursioni, birdwatching, visite guidate e varie ed eventuali e tutti gli eventi sono gratuiti e per alcuni tipo i laboratori e le escursioni c'è una prenotazione da fare e trovate tutti i contatti sui materiali e sul sito l'azienda Swarovski Optic torna a fianco del comune di Pesaro per il secondo anno consecutivo presentando però due grandi novità un binocolo digitale dotato di un particolare software capace di identificare animali selvatici solo inquadrandoli è la prima sedia a rotelle 4x4 per chi ha ridotte capacità motorie ci è sembrata una combinazione ideale ed è il motivo per cui siamo qui anche per il secondo anno consecutivo con un format che prevede appunto dibatti di scientifici ma anche tante escursioni secondo questo schema che spiegavo prima è una formula che abbiamo voluto ripetere ripetere e aggiungendo appunto questa della della presentazione della collaborazione con con zoom per la presentazione di questa carrozzina per disabili che che permette anche di andare fuori strada domenica 7 maggio nella giornata conclusiva della manifestazione alle ore 18 al campanile San Andrea Fiorenzuola di Focara verrà premiata come uno dei borghi più belli d'Italia di domenica grande festa a Fiorenzuola si aggiunge un riconoscimento di qualità per uno dei borghi davvero più belli d'Italia come Fiorenzuola per il parco San Bartolo che è uno dei luoghi magici che abbiamo da offrire anche in vista della capitale italiana della cultura capitale italiana della cultura è già di per sé un grande riconoscimento che si rafforza con questo riconoscimento per i borghi più belli d'Italia è una rete molto frequentata che darà sicuramente al nostro territorio una competitività turistica ancora maggiore e come avete visto in questo servizio appena andato in onda Fiorenzuola di Focara riceve il riconoscimento dei borghi più belli d'Italia ma allo stesso tempo fa discutere per la recente antenna 5G maxi antenna di 30 metri appena installata nello stesso borgo le foto che vi mostriamo sono state inviate da alcuni nostri telespettatori e documentano una struttura reputata poco confacente all'ambiente circostante e che ora viene fortemente contestata dai residenti e per i quali è partita anche una raccolta firme rivolta alla sua rimozione nuove sedute operatorie all'ospedale Santa Croce di Fano per ridurre i tempi di attesa nelle sale operatorie dell'ospedale oltre alla day week surgery dal 10 maggio verranno effettuati interventi di chirurgia protesica dallo staff dell'ortopedia e traumatologia gli stessi che vengono offerti dall'ospedale San Salvatore si tratta di una grossa novità volta a potenziare l'offerta sanitaria della zona e ridurre i tempi di attesa mantenendo al tempo stesso alti standard di qualità e vi informiamo che Rossini TV sarà presente venerdì 5 maggio nella splendida cornice di Villa Guerrini Mocchile Limonaie di Muraglia dove alle ore 18 sarà inaugurata la mostra bipersonale Passo A2 con le artiste Valentina De Martini e Giusy Lauriola vi ricordiamo che la mostra curata da Federica De Stefano sarà visitabile dal 6 al 12 maggio dalle ore 17 alle ore 20 e invece sabato 6 maggio alla biblioteca Bobbato la rivista online Quartiere Latin presenterà la sua prima giornata di studi sul tema opposizione nella storia tra antagonismi e resistenze dalle 9 alle 16 si alterneranno dunque interventi di laureati e dottoranti in dialogo con archivisti e docenti dell'Istituto di Storia Contemporanea di Pesaro l'obiettivo è quello di uscire dall'idea di una storiografia settorializzata per declinare il tema delle opposizioni in prospettive che abbracciano non solo la storia politica e sociale ma anche la storia dell'arte ed ora una segnalazione che ci arriva da un nostro telespettatore che si è infortunato rimediando un trauma cranico minore a causa di una segnaletica stradale reputata disposta ad altezza uomo e dunque pericolosa il telespettatore in questione ha denunciato alla polizia locale la pericolosità del cartello che vedete fra via Vincenzo Rossi e via Cardinal Massaia un cartello che segnala proprio l'inversione del senso di marcia in seguito ai recenti lavori alla cavalca ferrovia ed ora ci occupiamo di una nuova rassegna di promozione culturale ed enogastronomica che si chiama Calici di Parole cultura ed enogastronomia un binomio da tempo nelle idee di Confcommercio Marche Nord promosso ora grazie alla prima edizione di Calici di Parole sette appuntamenti che si svolgeranno nella sede dell'associazione per degustare libri di autori locali accompagnati dal buon vino del territorio per rendere realtà questa iniziativa è stata determinante la collaborazione con AIS associazione italiana sommelier il supporto di Terziario Donna e il patrocinio del comune di Pesaro Calici di Parole vuole essere nell'anno di riconoscimento di Pesaro capitale della cultura 2024 un'attenzione alla cultura un'attenzione agli scrittori del nostro territorio comunque alla pubblicazione, ai libri pubblicati nella nostra provincia in maniera particolare e quindi realizzare delle serate dove presenteremo i libri con gli autori abbinati ad una degustazione di vini del nostro territorio iniziamo già il 5 di maggio con Leonardo Marabini e la presentazione del suo libro I segreti dell'Aldiqua questo lo facciamo alle 18.30 di venerdì 5 e poi fino al 19 di giugno più o meno ogni settimana presentazione di libri e questi sono tutti veramente libri scritti nella nostra provincia penso al libro Metaura e le altre scritto da Anna Maria Matteucci che presentiamo il 17 di maggio poi abbiamo il 22 maggio Humanestesia che è il libro di Flavio Taini poi il 29 maggio alle ore 18 invece presentiamo un libro di Cristiano Varotti che conosco bene perché è mio figlio Nuvole di Drago dove insomma si parla un po' della sua esperienza in Cina in tanti anni tutti abbinati a vini scelti dall'associazione italiana Sommelier poi passiamo al mese di giugno dove presentiamo un libro di Raffaele Papi sull'incrocio Bruni 54 il 12 giugno un appuntamento per me e per noi di ConfCommercio molto importante perché l'autore è Filippo Cannizzo è un filosofo ma ci tengo molto ci teniamo molto perché presentiamo due libri briciole di bellezza e lacrime di gentilezza in entrambi ci riconosciamo molto perché parla della necessità di realizzare uno sviluppo economico del territorio basato sulla valorizzazione della bellezza che è quello che noi stiamo facendo attraverso il progetto itinerario della bellezza chiudiamo il 19 giugno con un libro di Nicoletta Tagliabracci il titolo è Aura Aura era la figlia di Federico da Montefeltro come è riuscito ad accostare ogni vino ad ogni libro qual è stata la ricerca? ma qui abbiamo pensato al territorio quindi libri del territorio abbinati ai vini del territorio quindi siamo andati alla ricerca ovviamente di luoghi e di vini del luogo quindi l'idea è stata questa e non siamo entrati molto nel dettaglio in più nella presentazione dell'aperitivo insieme ai vini quindi i bianchelli piuttosto che i montepulciani i sangiovesi e altro e nel mio caso i incroci bruni delle marche faremo degustazioni di bruschetta dell'olio ancora rassegna e culturale in questo caso parliamo di cultura e filosofia dello sport due direttrici della nuova rassegna battiti che si svolgerà nel mese di settembre pesero città europea dello sport dalle 2017 pesero futura capitale italiana della cultura 2024 pesero città in cui la filosofia è di casa da almeno un decennio tre percorsi per tre battiti che da settembre palpiteranno all'unisono battiti sarà infatti il primo festival della cultura e filosofia dello sport che dal 21 al 24 settembre creerà nel parco Miralfiore un nuovo contenitore in cui dedicarsi alla dimensione culturale filosofica epica ed inclusiva dello sport ma anche a sperimentazioni dimostrazioni e attività pratiche coordinate dal motore organizzativo di Paolo Pagnini e Maurizio Radi di Fisoradi Medical Center che hanno odiato il festival presentato nel comune di Pesaro è sì un evento che si svolgerà in settembre ma inizia oggi come percorso un lungo percorso sul quale vi terremo comunque informati perché anche il percorso stesso fa parte della idea e del festival un festival che punta a riassumere in un unico spazio che abbiamo identificato come lo spazio del parco Miralfiore che è strepitoso e perfetto per questa per questa idea tre grandi temi la cultura che a Pesaro ovviamente domina la filosofia che a Pesaro è sempre ospitata molto volentieri e lo sport ricordiamo che Pesaro è una città che ha avuto il titolo città dello sport nel 2017 ma che addirittura vanta 350 società sportive 30.000 tesserati insomma è si può dire a tutti gli effetti una città dove lo sport si respira quotidianamente noi riassumiamo questi tre temi e li abbiniamo allo sport praticato perché non andremo solo sul palco a raccontarlo lo sport attraverso dei protagonisti della comunicazione sportiva e della filosofia e della cultura dello sport ma abbineremo anche delle occasioni di sport praticato tutto questo in un a tre giorni che è un festival ma che noi ci immaginiamo come una grande festa a dare supporto al festival anche un maestro della narrazione sportiva come Paolo De Chiesa ex Valangazzurra e noto telecronista Rai per lo sci ho accettato l'invito a far parte di questo team organizzativo di questo evento con grande entusiasmo perché lo sport è la mia professione ma è soprattutto la mia grande passione oggi Fisorati Medical Center vuol portare un messaggio un'informazione a tutte le persone sulla salute e sul benessere e quindi questo Battiti Festival che parla di filosofia e cultura dello sport naturalmente ci rispecchia in tutto quello che è la nostra filosofia e la nostra mentalità e cosa abbiamo fatto non abbiamo fatto altro che associare poi già cose che ci sono nella città perché Pesaro città dello sport nel 2017 città della cultura nel 2024 e in uno scenario come il parco Miralfiore che oggi come oggi è veramente una chicca della città lo sport non lo dobbiamo vedere solo come un evento di attività agonistica ma lo sport è movimento lo sopporto è attività fisica e tutto questo sappiamo come oggi ci può portare a vivere meglio e anche a vivere di più infatti se vediamo la vita media del cittadino si è allungata notevolmente tutto questo è normale grazie alla medicina grazie alla scienza ma grazie anche a un migliore stile di vita e quindi noi non facciamo altro che continuare a promuovere e a portare informazione da questo punto di vista a tutte le persone che ci seguono da tempo si conclude qui questo nostro spazio informativo di Rossini News ma l'informazione su Rossini TV continua anche in prima serata perché alle 21.20 vi proporremo una nuova puntata di Amministrando questo nostro format è dedicato alle politiche locali quelle delle amministrazioni comunali provinciali o regionali in questo caso parleremo con il sindaco di Gabice Mare ci occuperemo delle comune più settentrionali della costa marchigiana e lo faremo in compagnia del sindaco Domenico Pascuzzi come detto appuntamento alle 21.20 e poi le repliche che vedete in grafica dal giovedì al lunedì informazione che poi torna anche domattina come sempre in diretta a partire dalle 7.20 con Buongiorno Rossini la nostra segna stampa dei quotidiani locali che per l'occasione sarà condotta dal nostro Antonio Astuti altra diretta ma di altro genere quella fissa del giovedì con insieme a Canestro il salotto di Marco Cadetto dedicato alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro che per l'occasione avrà ospite Abdur Rahman la guardia della Carpegna Prosciutto Basket e l'opinionista Alfredo Carboni oltre come sempre lo ricordiamo alla possibilità di interazione in diretta di voi telespettatori attraverso il numero whatsapp dedicato 370 366 72 1 0 ed è davvero tutto per questa sera si conclude qui Rossini News vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata in compagnia dei nostri programmi grazie a tutti